Sveglia e caffè, barba e bidet Fatti i video e via discorrendo Potrei sfruttarli per qualche tutorial che vi interessa O semplicemente farvi vedere i cazzi miei O anche, si può dire cazzi su YouTube Comunque, o anche per sfruttare e provare nuove transizioni, nuovi effetti sui video Più o meno, un random tank ro faccio quello che voglio Proprio come rovazzi Cinta Allora, su FlipRasy È stata ovviamente una cosa al volo, veloce, veloce, controllo sempre che registra l'audio Anche perché il negozio è più vicino Vediamo se adesso riesco a registrare, se non mi casca la macchina durante il tragitto E praticamente li conoscevi di Supply Di Supply è un piatto tipico romano Si chiamano anche Supply al telefono Che sono composti da una manciata di riso Un pezzettino di mozzarella Poi panati e fritti Il riso è al sugo E possono ricordare gli arancini Ma in realtà non c'entrano assolutamente niente Perché sono molto più piccoli E hanno comunque ingredienti diversi E niente, molto molto buoni Uno dirà l'altro un po' come succede con i Popcorn E infatti io di solito ne prendo almeno, almeno 6 Purtroppo li devo dividere, non li mangiutto io Bene, facciamo l'unboxing dei Supply Un Supply è questo Vi faccio vedere Vediamo che mi avevano Ed è questo qui Non c'è troppa carta Come dicevo, una palla di riso Si chiama Supply al telefono Perché praticamente al centro ci sta una mozzarella E se tu lo spezzi a metà appena fatto La mozzarella fila In questo caso non è bollente Quindi la mozzarella non finirebbe E quindi non ve lo faccio vedere Adesso mangio il mio Supply Ho detto tantissimo di moda mangiare Mentre c'è davanti a una telecamera Vevo di parlare del microfonino Questo qui, io vi faccio vedere Sarà sfogato Come vi dicevo L'ho pagato una decina di euro su Amazon Vi metto magari il link in descrizione E ho provato i video che ho girato prima Quelli che avete visto che ero in macchina A un certo punto, se ci notate, ho dovuto tagliare il video Perché praticamente c'era un punto In cui c'erano dei picchi, dei click Quindi come quando uno batte sul microfono Ora non so se è dovuto al fatto che magari Non si è attaccato bene nell'iPhone Oppure ha proprio dei problemi Adesso lo provo ancora per un po' O per magari vi farò sapere Volete un Supply? Metti a fuoco il Supply Metti a fuoco il Supply Perché lui mi mette a fuoco la mia faccia Lo fa come Clio, vedi? Non gli do più lo fa bene le facce Clio ma tu con i Supply ci riuscivi? Eccolo Come i vecchi tempi Quando abitavo a Roma E il sabato a Roma Est Del solito com'era? Era giretto con merenda La cosa importante è la merenda Giretto, merenda Ok Giretto, merenda C'era il dovevo questa E poi c'era il cinema Adesso del cinema Andavamo sempre all'ultimo episodio L'ultimo episodio è tipo a luna di notte Però guarda lo schermo invece che la telecamera È tipo a luna di notte E uscivamo alle 4 del cinema Considera mezz'ora di trailer Durava il film, durava tanto E uscivamo alle 4 Probabilmente andavamo a fare colazione Quella che uscivamo alle discoteche Ma noi eravamo stati al cinema Questo è il vlog inception Vlog al vlog Sì, lo so, sto dentro a un bagno Ma questi qua sono tutti automatici Ma non funzionano mai Acqua, eh sì Aria, acqua, sapone Che praticamente dovrebbe uscire il sapone Ma non esce mai Io ne la posso fare Fai una su e giù Su e giù Destra e sinistra Vicino, su e giù Rotazione, così Viene, eccolo Eh, eh Più proprio chiudere la lunghe Dai E quindi, per chiudere la serata Come sempre La cosa da fare è mangiare La volta al resto Naturalmente se mettiamo in fila Anche se non c'è bisogno Di fare la fila Che i lavori sono liberi Però ci spiegava uno Che se tu ti metti in fila E ti vedono in fila Davanti al ristorante Sembra che È più buono Perché c'è un sacco di gente Che vuole entrare In realtà il ristorante È sempre buono E sì E con questo vi saluto Adios